Ciao e benvenuti! Io sono Luigi, la strega che verga le pagine più viola del web su liberumbrarum.net. Oggi continuiamo a parlare di numerologia occidentale e in particolare della carta numerologica. Lascerò il link al primo episodio della serie dedicata alla numerologia nella cardinalto e nel box informazioni. Iniziamo col dire che una carta numerologica è l'insieme dei numeri che caratterizzano un individuo, numeri calcolati a partire dal nome completo e data di nascita. I numeri della carta numerologica possono assumere i valori da 1 a 9. Molte scuole numerologiche aggiungono questi altri valori considerati in qualche modo speciali al pari dei primi 9. In genere si tratta dei cosiddetti numeri maestri, che sono 11, 22, 33 e 44, e dei numeri carnici, che sono 13, 14, 16 e 19. Il metodo di calcolo dei singoli numeri, la quantità di cifre che compongono una carta numerologica e il significato attribuito ad ognuna di esse variano di scuola in scuola. In questo video vi presento la struttura di una carta numerologica oggi molto diffusa. Questa carta numerologica è composta da 5 numeri che sintetizzano la natura dell'individuo. Questi 5 numeri sono il numero dell'anima, il numero della persona, il numero dell'io, il numero del destino e il numero della quintessenza. La connessione tra questi numeri e il loro significato può essere espresso graficamente utilizzando uno schema come questo. Il grafico della carta numerologica potrà essere quindi usato per segnare i 5 numeri calcolati. Analizziamo ora brevemente ciò che ognuno di questi numeri rappresenta all'interno della carta numerologica. Il primo numero è il numero dell'anima. Chiamato anche numero del desiderio profondo è associato alla parte più intima della personalità, alle aspirazioni, alle motivazioni, alle credenze più profonde e caratterizzanti che muovono la persona. La parola chiave da tenere in mente è interiorità. Il secondo numero è il numero della persona e corrisponde a quello strato della personalità che si frappone fra il mondo esterno e l'anima a protezione di questa. Si manifesta come la maschera sociale indossata da tutti che lascia la traccia della prima impressione. Questa parte della personalità funziona da filtro bidirezionale tra il dentro e il fuori. La parola chiave di questo numero è esteriorità. Il terzo numero è il numero dell'io che è conosciuto anche come il numero dell'espressione e che corrisponde alla sintesi di anima e persona e dunque descrive l'individuo nella sua potenzialità completa, le sue possibilità di interazione col mondo esterno, i talenti e le debolezze che lo caratterizzano. La parola chiave di questo numero è sintesi. Il quarto numero è il numero del destino che è chiamato anche numero del percorso di vita e rappresenta l'obiettivo finale che segna e modella il percorso di vita dell'individuo e insieme il percorso stesso, le situazioni vissute, le persone incrociate, le sfide affrontate e così via. La parola chiave di questo numero è riferimento. Il quinto e ultimo numero è il numero della quintessenza. Rappresenta l'essenza dei quattro cardini del quadro numerologico e quindi della persona. Io è destino integrati armoniosamente per manifestare compiutamente l'essenza del sé. La parola chiave di questo numero è essenza. Questo video termina qui. Una volta compresa la struttura della carta numerologica potremo imparare come calcolare i suoi cinque numeri che sarà l'argomento del prossimo video dedicato alla numerologia. Vi ricordo che potete lasciare domande, opinioni e suggerimenti commentando il video o contattandomi usando i riferimenti che trovate nel box informazioni in basso. Ora vi lascio con un saluto dal cuore e vi aspetto al prossimo video. Nel frattempo spero di incontrarvi fra il viola delle pagine di Liberum Brarum. Trovate i collegamenti al blog e ai canali social nel box informazioni.